interno di questa specie di radura dove c'è una casa proprio lì nel bosco diciamo un po fatiscente ma neanche tanto ed evidentemente abitata nel senso che se vi fermate lì a vedere vedete anche che c'è un vicino acceso all'interno quindi siete diciamo siete tutti arrivate vedete l'uva e belluno di spalle e siete voi e c'è anche l'estra lì per voi perché vi ricordo che lei era interessata a seguire a seguirli e a tenerli d'occhio però non vi ha ancora detto perché mi sa esatto che ci aveva proprio detto che li seguiva sì in sostanza vi aveva proprio detto che non solo vi aveva proprio detto che la sua priorità era cioè il motivo del suo viaggio alla fine era proprio star dietro a loro due poche parole quindi siete lì nella radura e ludo e bellum diciamo che non si sono ancora accorti di voi però potrebbero farlo presto in quanto di fatto non vi state nascondendo quante distanza sono da noi facciamo fai conto neanche una decina di metri poco più avanti li avete notati perché anche loro evidentemente non si aspettano di essere sorpresi alle spalle semmai pensano di doversi nascondere da chi gli sta di fronte ecco eric malo ma riuscite a tagliarli semmai una via di fuga e ragazzi io mi avvicino loro ti faccio di no con la testa io vedi che io ti sto ascoltando ma sto guardando palesemente malaga faccio una specie di schiocco secco con la lingua tipo e vedi che strendo come per andare a colpirli da dietro mi sono perso un pezzo hai estratto la spada si e mi inoltro nel fogliame ho fatto come segno di prendere l'altro di dividerceli insomma ok si si eric cosa fai tu io estraggo la spada anch'io e vedi che mi sto dirigendo nella direzione di malagast allora io vado sull'altro faccio segno al prete di fermare di aspettarci lì con la mano ah io non mi muovo ah lo so come tu ti basa banchi e tu stai indietro ho un libro ben aperto e dato che la volta scorsa non c'ero non sto un attimo pensando a che opinione posso aver avuto di questi due figuri e mi associo al mantello nero quindi se li sta seguendo c'è qualcosa che non va quindi anche per me sono sospetti e allora rimango lì di fianco a lei osservando la scena con fare piuttosto austero e aristocratico 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 ok in sostanza di sorprenderli alle spalle giusto cosa fa l'estra in realtà lei sta lì in effetti in disparte non cerca di attaccare particolarmente briga ecco visto che comunque è lì con voi vi rendete conto che vi sta sta più che altro guardando cosa fate voi ed è come se come se stesse analizzando la situazione poi mi avvicino all'altra allora quello quello due non va male allora fate un test tutti quanti di furtività con più cinque e ho un meno uno io quindi beh si ma quando tu lanci l'abilità con queste schede qua vabbè ma tu no demetros perché in effetti scusami perché tu in effetti rimani dietro no meglio a questo punto ricapitolando un più quattro allora si beh no però scusami no tu dovrebbe già calcolartelo di suo cioè tu metti semplicemente più cinque eh io ho fallito fallito vabbè in teoria questo è anche un mega critico complimenti ottimo comunque no in teoria non devi fare più quattro perché se non ho capito male come funzionano queste schede qua su roll 20 in teoria lui dovrebbe già prenderti il meno il meno uno quindi no io mi riferisco alla giornata no sai ah beh tu l'avevi già fatto quel tiro eh la giornata in gioco non è finita ancora eh ok ok sì sì no allora va bene scusami non avevo capito ok perfetto allora semplicemente quando vi avvicinate avete le armi in pugno le belle sguainate cercate di fare il più silenziosamente possibile però evidentemente con tutta l'armatura e non vedete neanche tanto bene perché in effetti è notte fonda ormai cioè non si vede c'è un po' il chiarore della 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 luna ma poco perché comunque anche eh eh siamo sul fine dell'autunno quindi non è che ci sia tanta luce e fate rumore semplicemente spezzate dei rami urtate urtate le frasche e fate rumore tanto più che improvvisamente si girano e vi riconoscono anche che che fate mettete giù le armi ma dove li vediamo esattamente fai conto di vedere una seta all'initare di questa di questa radura ok ci sono come questi cespugli bassi cespugli bassi e diciamo e i rami degli alberi che che calano e quindi loro si sono creati una specie di di nascondiglio lì e in effetti nelle ombre non si vedono io non sono andato con l'arma sguainata è non ci sono solo avvicinato eh io cioè io sulla mappa mi sono segnato qua dimmi tu insomma se ah no lì sei già fin troppo eh io avanzando sono avanzato fino qua vabbè ma tranquilli considera che ieri l'ultima volta non si si no 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 ma adesso seguendo Manuel ok fai conto che sei qua ok tra l'altro come carico il token lì sopra io ecco altra bella domanda te lo metto anch'io no trascini la scheda esatto ah ok va bene basta trascinarla sulla mappa vediamo i nomi vostri per invece toglierli come si fa sulla mappa toglierli toglierli dalla mappa in che senso io ce li ho sullo schermo cioè non dalla mappa sullo schermo nel senso io i vostri i nostri cinque nomi con i colori quadrativi in mappa puoi toglierli quelli puoi al massimo ridurre se c'è l'immagine ok però se vedi solo il nome quello è il minimo che puoi tenere altra cosa voi vedete la vita di eric no non vedo la vita di nessuno ah ok vabbè stranissimo adesso per esempio io vedo la vita di eric ma non quella di demetros e la barra rossa perchè perchè vuol dire che la mia barra rossa non ha un massimale ah ok giusto adesso te lo metto adesso la vedi tipo certo ma perchè questo lo devi fare come ti dicevo l'altra volta tu devi fare i token vedi che questi token sono anche sproporzionati rispetto alla griglia li devi fare regolare sia di dimensione che di statistiche e poi associare il token definitivo alla scheda così facendo trascini sempre il token definitivo ero convintissimo di averlo già fatto naturalmente no va bene allora ma c'è la musica o se non la sento scusate adesso è spenta ok allora bene quindi siete più o meno lì adesso la mappa non è accurata la situazione è ovviamente molto più molto più grande la 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 zona ok e anche diciamo il divario tra la casa che vedete e il limitare della della foresta da dove siete arrivati è molto più grande ok 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 quindi niente li avete vedete che loro rimangono in realtà più sorpresi ma più che altro per il fatto di vedervi alcuni con le armi sguainate e appunto non capiscono la situazione io faccio segno di silenzio col dito e mi avvicino e dico di star calmi cerco la mano a questo punto vi dicono beh ci avete raggiunti quindi evidentemente anche voi avete trovato le tracce le abbiamo seguite fino a qui noi non sappiamo non sappiamo di chi a chi appartengano cosa sapete? penso quello che sapete voi c'è stato un assassino che l'assassino di chi? di quel povero ragazzo il mago il mago il mago il mago si si beh siete stati voi chiaramente vedi che quando dici così entrambi hanno un motto di sopra certo che no e perché avremmo dovuto fare? non lo so dovete dicere voi chiaramente è un'offesa gravissima come ti permetti tu ragazzo io rido beh aspetta di vedere la mia lama prima di essere di dire offesa io ho fatto un segno di star calmo a eric dico calmati un attimo dico beh c'è un assassino e voi sparite dalla circolazione siamo venuti prendervi per spiegare ai vostri fatti esatto non ho sentito molto purtroppo non ho sentito molto e il mago in mano a lagarello si eh mi spiace c'è un po' di lag dicevo dicevo siete spariti proprio subito dopo un assassino siamo venuti a prendervi dovete spiegare le vostre azioni ma ma non siamo stati noi e e e perché ripeto avremmo dovuto farlo abbiamo seguito le tracce le stesse tracce saprete distinguere le nostre da quelle degli altri no beh comunque comunque è evidente è evidente che l'assassino è dentro quella casa ma dov'è la vecchia vedi che quando dici così rimangono ancora più sorprisati ma quale vecchia beh se l'assassino è là dentro ha la vita contata e io mi dirigo verso proprio l'entrata della casa eric fermati ci vuole un piano non possiamo entrare così Malagast fermalo attento ascolta appoggio la punta della spada a terra lascio trascorrere un paio di secondi appoggiandomi sull'elsa col gomito mano sulla faccia eric torna qui che c'è vecchio ascoltiamo il piano di colombo ascoltiamo il piano di colombo ogni persona che va senza piano finisce morta te lo devo dire ancora e ancora prima che tu lo impari secondo me bisogna tatuarglielo la prossima volta e rido e metto una pacca su Malaga cioè sulla spalla così un amichevole sentiamo il piano di colombo prima di tutto vorrei un attimo capire da questi color questi due color signori ma che effettivamente diciamo che come vi siete comportati tutto porterebbe a sospettare di voi se non direttamente colpevoli magari in combutta con chiunque ci sia lì dentro e comunque quante impronte avete trovato quante secondo voi quante gente c'è dentro secondo voi ah sinceramente mi sembro una sola persona comunque comunque lo vedi che ti risponde in modo abbastanza scocciato collaborativo perché non vuole evidentemente darti anche l'idea di essere colpevole però molto scocciato per il fatto di essere stato accusato avete fatto il giro della casa ci sono solo un ingresso ce n'è uno anche dietro non lo so stavamo pensando il da farsi beh direi che è il momento giusto per scoprirlo fate un giro attorno voi siete sicuramente più leggeri di noi e tornate a riferirvi vedi che ti guardano ma perché ci hai preso assolutamente no eric cos'è che tu che sei più bravo a costringere queste persone al dialogo e soghigno io ho a riferire cosa vanno incontro se disobbediscono li fisso chiaramente e sempre con questi occhi alieni quasi e non dico quasi nulla tengo la la bocca leggermente aperta dopo di che mi avvicino con la spada non con fare intimidatorio la spada è sempre rivolta verso il basso vi conviene andare vi guido io andiamo presto e mi sto avvicinando nel frattempo nella loro direzione ok allora adesso in realtà il il token per per loro due non c'è ma tu fai conto di averceli alle spalle più o meno ah no ne tengo uno davanti anzi no li tengo entrambi davanti guarda copia il mio incollalo in caso ma se guarda che ci sono anche dei token veloci prefatti di solito se hai bisogno di due persone da buttare lì se guardi su dove c'è la libreria c'è una barra di ricerca lì puoi cercare non lo so tipo no aspetta barbarian forse ne ho un paio devo vedere a caso ranger e ti vedono fuori men aspetta adesso ne tirano fuori un paio vecchi ma vedi non sono token però fa stesso si esatto Chissene, è chiarissimo Sì sì, perfetto Allora vedi che loro con molta riluttanza comunque avanzano Vedi che tra l'altro si muovono anche abbastanza bene Evidentemente stanno sfoggiando le loro abilità da barbari Capisci anche che hanno probabilmente esperienza diciamo di ambienti appunto così un po' selvaggi e naturali E pian piano vi muovete attorno alla casa Allora arrivate senza nessun problema fino proprio a limitare più o meno fino qua E vedete che sentite qualche rumore abbastanza tenue Potete anche vedere un po' all'interno di una piccola finestra che c'è qua E vi rendete conto che probabilmente è vero quello che vanno detto E cioè che dentro c'è solo una persona Che non vedete Però diciamo che riuscite a fare un rapido giro della casa Anche abbastanza silenziosamente E soprattutto senza neanche che si riveli necessario Prestare particolarmente attenzione Perché capite che dentro c'è quasi nessuno In sostanza però capite che l'unica vera entrata è quella lì davanti Una domanda nel mentre che loro fanno questa cosa Io volevo chiedere a Lestra Finché siamo lì nelle frasche Sorella che sospetti avete su quegli uomini? Di cosa dobbiamo preoccuparci? Ti guarda Anzi non ti guarda Ti risponde in modo preciso Ma sempre tenendo più o meno lo sguardo su di loro E ti dice Per ora sono solo dei sospetti Quindi non voglio sbilanciarmi troppo Ma noto qualcosa di molto sinistro In loro Meglio tenerli d'occhio Giravano strane storie Su un paio di barbari Che tornati da una spedizione nel Davokar Erano entrati in contatto con un oggetto Molto pericoloso E poi non ti dice altro Io rimango in silenzio Li osservo e sono scuro in volto Nel caso in cui qualcuno degli altri si voltasse Nella vostra direzione Diciamo che riuscite a fare l'intero giro E più o meno tornate nella posizione di partenza Quindi più o meno dove sei adesso E io mentre avanziamo Analizzo Che di cosa sono armati questi due Adesso te lo dico Allora hanno tutti e due Un arco E un'ascia Ok hanno un coltello Come? Hanno un coltello a vista No non ti sembra Poi per carità hanno anche delle grosse pelli Diciamo d'animale Potrebbero essere delle pelli d'orso Delle pelliccione Che fungono un po' anche da armatura Ma Quindi per carità Un coltello potrebbe anche essere nascosto Però Lì per lì non ti sembra Ok Allora Niente Ritorniamo lì Gli dico più o meno quando siamo a questa altezza Di andare Da Andare gli altri A riferire Quanto abbiamo visto E io Mi fermo qua E mi avvicino alla porta Ok Io intanto da lontano Vedo Quante finestre c'ha la casa Se qualcuna secondo me Può essere Se ci si può passare Oppure è sbarrata No allora Diciamo che è una casa Molto normale Quindi È solo Fatiscente Probabilmente era qui E Da tempo E facilmente è stata occupata In un periodo successivo E Diciamo che le finestre Non sono sbarrate Ci sono Ci sono Alcune sono chiuse Però Ci si passa Senza problemi Però è una casa piccola Ma Il Jack È destra Quanto lontano Sono rimasti Forni All'inizio Io Sì Cioè Al massimo avanzo Un po' Se il mantello nero Si muove Però Immagino Sia lì Tra le frasche Mi giro Verso l'estra Allora faccio segno Che noi entriamo Mi ricorda che ti metto Anche l'estra Guarda Eccola Io nel frattempo Appoggio L'orecchio Alla porta Ok Fai un tiro Di Attenzione Liscio Attenzione Ok Allora senti Il crepitare Di un fuoco Molto leggero Perché comunque C'è la porta Quindi lo senti Come molto Vattato E poi Il Una Una voce Anche questa Molto lontana E soffusa Che appunto Ti sembra Quella di una donna Che dice cose Che non riesci Comunque A comprendere Sta parlando Sì Però Non ti sembra Onestamente Non ti sembra Avere Un'interlocutora Perché sono Ti sembrano Più che altro Delle frasi Buttate un po' lì Quindi Se stessi S Certo Certo Però Quanto la sento Vicino alla porta Non sai dire Cioè Nel senso Sicuro Non è dietro La porta Ok Può essere Nelle vicinanze Quindi Comunque Se la sento Sì 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 È dentro La casa Non puoi sapere Dove si trova Di preciso Ok Allora Provo ad aprire La porta Per vedere Verso Malagast E gli dico Malagast Accompagna Eric Ma fa sì Che entrino Prima Quei due Non mi fido Di loro Non lasciarti Dalle spalle Io passo Da una delle finestre Va bene? Mi passo Una mano Nei peli Sfidi Così E ti dico Va bene E mi Aprendo la porta Comunque tu vedi L'interno In realtà Questa è una specie Solo una specie Di piccolo atrio Lo vedi È spoglio Gli altri Si spostino pure È vero Nella mappa Se vogliono Anche Non necessario Senza rispettare Un turno Preciso Non so Forse qua c'è una finestra Insomma Un lato Di questo Dove c'è una finestra La prima finestra Che trovo In poche parole Sì Mettiamo che La vedi Qua E Se mi avvicino lì Faccio Quando mi avvicino lì Faccio il verso Di un animale Notturno Per chiamare La loro attenzione Tipo Dei barbari Sì Anche di Eric Immagino Sarà una cosa Piuttosto comune Immagino Sì Beh sì Una volta fatto questo Faccio segno Ai barbari Di entrare E Eric Di venire da me Vedi che loro Ti dicono Cioè Non Non vogliono Nel senso Ti rendi conto che Anzi Fanno un passo indietro Nelle frasche Dicono Non capiscono Perché vogliono Perché tu vogliono Una cosa del genere Beh Se Eric Arriva Arriva Vedi che Sono intento Cioè Non ti sto prestando Attenzione Ho la spada Sguainata Dalla mano E dall'altra Ho la maniglia Della porta Ti guardo Però sto Comunque Tenendo D'occhio dentro Dalla fine Quando vedo che i due Non entrano Cioè io sto Sguarando un po' La scena Vedo che i due Non ascoltano Quello che dice Mara Cerco lo sguardo Di l'estra O di Non mi ricordo Di Jack Come si chiama Comunque Di uno dei due Di l'estra Se riesco E gli faccio Ceno Di quei due Lì Tipo di In modo Insomma Di tenerli d'occhio Di faccio tipo Di tienli d'occhio Con la mano Anzi A un certo punto Malagast Ti guardo Alzo la spada E faccio tipo Questi gesti qua Quando abbasso L'ultimo Lito Do un calcio La porta E dentro Allora Dato che Mentre contava Mi avvicinavo Quindi direi Che sfondiamo La porta Entriamo in due Ok E io Apreto La prima Semplicemente Colombo Da là sotto Dalla finestra Che comunque È aperta Vede Semplicemente Una stanza Anche questa Abbastanza Fatisciente Con un letto Sì io entro Quando vedo Che loro entrano Appena loro Sono entrati Io entro Anch'io Dalla finestra Sì 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 Ok sì È una cosa Che ti riesce Facilmente Semplicemente Devi spaccare Il vetro Appena vedo Che loro Sono entrati Quindi comunque L'attenzione Sicuramente Si è focalizzata Che loro Che sono entrati In all'arcanza Io Aspondo Dentro Me ne frego Chiaramente Entro urlando Con la spada Sguernata Perfetto Quando fate Queste cose Comunque Sentite Sentite Una specie Di gemito All'interno A terra A terra Non fare scherzi Vecchia Un urlo Così A che cosa Venete Che senti Stai a terra E la cerco Provo a entrare Nei locali Dove è Dove credo Che si Da qui Credo Provenga la voce Mattio Allora C'è un'unica porta Che è questa Davanti a te Non la vedo Ah ok Scusa Te la libero Ok Meglio Così Ok Allora Calcio Anche quella Questa è chiusa Si si La calcio Si 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 Devi Tiro di Vigore Si Ci sta Patapim Proprio La butto Giù E dentro Con la spada In posizione Proprio Di attacco Aggressivo Certo Vedi che Proprio Questa Porta Che era Anche Abbastanza Leggera Non che Mezza Marcia Va Praticamente In mille Pezzi Sotto Il tuo colpo Coseroso E adesso Ti faccio vedere Un po' Un po' Di cose Quello Si apre Nel frattempo Vado verso la porta E una volta entrato Mi dirigo Verso la prima porta Che vedo Più o meno In coincidenza Con la stanza Dove dovrebbero Essere loro Per capirci Certo Però non passo Osservo Prima Cosa c'è Allora Voi vedete Questo Diciamo che Davanti a voi Voi avete sfondato Questa porta qui E in poche parole Si apre Una Una stanza E Vedete Al di là Di un'altra Porta Una Una Specie Un tavolaccio Pieno di Oggetti Vedete Delle erbe Che pendono Dalle Travi Animali Morti Appesi Via Un fuoco Un fuoco Che Bolle In un angolo Che Brucia In un angolo Sotto Ad un calderone Rivollente Nice Nice Esatto E sul tavolo Proprio Vicino A una candela Tremolante E a vari Altri oggetti Chiaramente Di fattura Alchemica O comunque Così Vedete La sfera Che è stata Sottratta Al mago E proprio Sul tavolo Ok Vedo 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 La tipa Da qualche Parte Non la Vedi Però Capisci Che è Nell'altra Stanza Perché Continuo Orare Cosa Volete Andatevene Vogliamo Risposte Non vogliamo Farti Del male Possibilmente E avanzo In posta Lunga Cioè La spada Proprio Tenendola Avanti A me Senti Un movimento Senti Un movimento Verso Un'altra Zona Della Della Casa Ok Di qua Sì Allora Mi dirigo Di qua E Spalanco La porta Questa È Proprio Una specie Di piccolo Sgabuzzino Ci sono Delle Qualche Formaggio Generi Alimentari Di qualche Tipo Ascolta La casa È circondata Esci fuori E non ti sarà Fatto Alcun male Voi Non capite In che Situazione Ci stiamo Trovando Adesso No È per questo Che siamo Qui Così Magari Ce la Spieghi No Adesso Arriverà Avete fatto Troppo rumore Andre Ma nella mia Stanza C'è solo Una Porta Sola O Ce n'è un'altra Sì Aspetta Che Ti libero Meglio Anche lì Sì Perché Non capisco Come è Fatto Ah Lì è chiuso Ok Io entro E Possibilmente Prendo la Sfera Io Entro Nella Stanza E Vado Dietro A Eric Appena Ti avvicini Alla Sfera Vedi Che Da Dietro L'angolo Sbuca La Faccia Proprio Di Una Mesera Brutta Brutta La Vedete Sì 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 Che Proprio Fa Capolino Da Lì E Dice Non Toccare Quell'oggetto Quell'oggetto Mi è Indispensabile Perché Che E Ho Proprio La Mano Sopra E Poi E Vedi Che Lei Si Si Tocca Qualcosa Sotto Le Vesti Che È Evidentemente Appeso Al Suo Collo E Con Aria Quasi Terrorizzata Mentre Voi Fate Questa Cosa Da Fuori Demetros E Lestra Si accorgono Che Molti rumori Si stanno Proprio Ci sono Vari rumori Che Vi fanno Pensare Che qualcuno Stia proprio Arrivando Da dietro Di voi Un grosso Manipolo Di persone Sentite Anche Degli Urli Strani Degli Schiamazzi Quasi Gente Che Si Dà La Carica Si L'abbiamo Trovata C'è Buio Completamente Dietro Di noi Si Beh Non è Che È Buio Pesto Però C'è Buio Si Le Persone Che Si Stanno Muovendo Non Hanno Delle Luci Metti Che Per Però Effettivamente In Lontananza Qualcuno Primo Cioè Puoi Già Scorgere Che Qualcuno Avanza Anche Dua Fonte Di Luce Ok Quindi Vedo Delle Persone Sento Delle Urla Vedo Delle Persone Delle Piccole Luci In Lontananza Più Che Altro Per Ora Le Senti Poco Dopo Si Aspetta Un attimo Ti Guardi Alle Spalle Cominci A Vedere Anche Della Luce Come Delle Fiaccole Ok Va bene Allora Una volta Che vedo Questa Folla Che Avanza Vorrei Comunque Provare A capire Se Le Voci Che Arrivano E Che Sento Mi Ricordano La Gente Della Carovana Del Campo Oppure Qualcosa Di Completamente Diverso I Suoni Ecco Non Solo Le Voci Tutto Completamente Diverso Te Ne Accorgi Subito Senza Di Cana Allora Una volta Che Mi Volto E Osservo Poi Senza Guardarla Ma Sempre Guardando In Direzione Sorella C'è Qualcosa Di Strano In Quelle Persone Non Vorrei Che Siano Criminali O Banditi Cosa Facciamo E Faccio Un Passo Indietro E Guardando Mi Giro A Guardare La Casa Purtroppo Non Non Possiamo Saperlo Ma In effetti Non mi Sembrano Non mi Sembrano Persone Particolarmente Pacifiche Forse È Meglio Se Entriamo Nella Casa Insieme Agli Altri O Troviamo Un Nascondiglio Anche Se Non Sarei Molto Contenta Di Rimanere Fuori Non Si Sa Mai Meglio Stare Uniti E Sia Andiamo NPC Più Saggio Di Sempre Niente Va Bene Allora Retro Insieme All'estra Immagino E Poi Io Come avevo Scritto In chat Stavo Tenendo D'occhio Tutta La Zona Lì Circostante E Gli Altri Due Quindi Insomma Se Li Vedo Immagino Di Averli Sott'occhio Ancora Da Prima Comunque Faccio Un cenno Anche A loro Dico Voi Due Avanti Spero Non Siano Gente Che Conoscete Voi Quelli Che Stanno Arrivando Vedi Che Loro Evidentemente Non S'erano Ancora Accorti Bene Dei Rumori Perché Loro S'erano Diciamo Acquattati Lì Nelle Frasche Diciamo Forse Non Avevano Troppa Intenzione Di Seguirvi Però Appena Avanzate Verso La Casa Vengono Fuori E Allora Quando Li Vedo Proprio Lì Li Dico Se Non Siete Invischiati Con Quelle Persone Dentro Non So Di Che Cosa Tu Stia Parlando E Allora Entrate Meglio Rimanere Uniti Entrano Subito Ok Allora Mi assicuro Di essere L'ultimo Che Entra E Prima Di Chiudere La Porta Comunque Rimango Un attimo Ad Osservare Ok Mettiti Comunque Dove Si Si Arrivo Naturalmente Qua Mi si È Diciamo Che Chiudo La Porta Quel Tanto Che Basta Tipo Lascio 5 8 Centinetri Per Guardare Fuori Nella Direzione In Que Ho Sentito L'umore Visto Le Luci E Vedere Effettivamente Quante persone Magari Stanno Arrivando Che Persone Sono Nei Cavalli Vestiti Da Certo No Allora Un attimo Solo Che Cerco Di Riattaccare Anche Canale Musicale Naturalmente Non so Perché È Uscito C'è Scritto Slash C'è Scusami Punto Esclamativo Join Da Scrivere Non so Se Non ti trovo André Mi assente Cinque minuti Sai Due secondi Ritorno Subito Non ti trovo Con il sistema Musicale Integrato Di Roll20 Sì Però C'è Molto spesso Quando ho caricato Le musiche Alcune Non partivano Non mi piace Preferisco In effetti Il bot musicale Più facile Per me Ok Comunque Quando la vecchia Mi risponde così Io la guardo Faccio spallucce E prendo la sfera E me la metto in tasca Senti un gemito Un gemito Scusami E Lei comincia a guardarti Con odio Tu non sai Cosa stai facendo Dopodiché Da fuori Demetrius Vede questo Dove lo stai mostrando? No Oh no Si è spostata la mappa Devi control z Ancora Se premi control z Ti va indietro Negli Nei comandi No Più che altro Sei su livello mappa Forse Sì Ma Udm Ah ecco Sì Sono un coglione Scusate Oh Cominciate a vedere Che Nella radura Arrivano Un gruppo Di persone Alcuni Con le fiaccole Che cominciano A urlare Sono proprio Come dei Li vedete Dei tipici Piccoli banditi Non hanno l'aria Di essere Particolarmente Marziali Per capirci E Però Quello che È un po' Più preoccupante È questa figura Qua Che li segue Bello Non è assolutamente Quello Esatto Emiliano è Ivan Sì Esci il caschetto Biondo Tra l'altro Questi sono Alcuni Ma vi rendete conto Che Sono vari Ci sono più di così Questi sono quelli Che vedete Altri invece Sono ancora Evidentemente Nel buio E cominciano A A circondare La casa In chi è troppo alto Che avanza Con la testa Ciondolante Lo vedete È ricoperto Di Ha un'armatura Abbastanza Abbastanza Robusta Master Sì Solo Solo perché A livello di background Sembra che abbia senso Ma La parola Ciondolante Risveglia Qualche memoria Delle guerre Che ho vissuto Diciamo Che Sì Perché Palesemente Palesemente Non ti sembra Un vivente Ok Non volevo interrompere Scusa Vai pure No 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 Ma hai fatto bene Ma comunque È abbastanza Chi li ha già visti In battaglia Facilmente Riconoscibile Chiaramente È un non morto Come quelli Che Capitava Di Vedersi Vedersi Svegliarsi Durare Sul campo Subito Dopo essere Stati uccisi Anche Tra le vostre Fila Tra l'altro Quindi Degli incubi Veri e proprio Ma io dico Gli altri Cosa sta succedendo Sono dentro Non vedo nulla Allora io supponendo Che Informazione Subito Supponendo che Si è rimasto Lì Immagino di averla Vista La cosa Che sta succedendo Fuori Giusto Sì sì Ma tra l'altro Non ti sembra Che lo stiano Facendo in modo Furtivo Anzi Lo fanno Proprio quasi Apposta Per farvi Probabilmente Per intimorirvi Vedete Che questi Qui davanti Per curiosità No no Non sento Sì Ah ok Dicevo Per curiosità E quel token Lì davanti alla porta Chi è? Demetro? No Sì sono io È Colombo Sono io Ok Quindi Questo qua Sei tu Quello di davanti alla porta Sono io Che stavo Sono entrato Sono l'ultimo Io sono dietro tutti Chiudo la porta E la stavo tenendo Su chiudo Il servando Verso l'esterno Ok Allora Mi giro Impanicato Prima verso di te Poi verso Eric E dico Sprangate le porte Sprangatele Faranno più fatica Entrare Che succede Vecchio Ci sono delle persone Fuori Sembrano Degli esaltati Sono sicuramente Degli eretici Guidati da qualcuno Ti prendo dal bavero Mentre parli E ti scuoto Non sono persone Sono loro Eric Sono loro E ti sposto E cerco di sprangare La bene meglio La porta Da fuori La voce Una voce proprio Imperiosa E Cavernosa Vi dice Datemi La mia mano E anche La pietra Io mi volto A guardare intorno Le altre persone Che ci sono Per dire Gli altri Sghignazzano Ha 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 E se è meglio Uscire Oppure Quanti sono Li vedete Non c'è Riesco a guardare Anch'io Cioè Come sono armati Questi Allora Diciamo che L'unico Che riesce A vedere Fuori Mi sposto Ok Allora C'è una porta Lì è come Se ci fosse Una porta E se la Tieni Sottchiusa Diciamo che Al massimo Un'unica Persone Possono Vedere Da poco Sì Sì Mi è vicino Guardo Questi qui Davanti Ti sembrano In realtà Abbastanza Malconci A livello Di equipaggiamento Sono Hanno Ti danno L'aria Di essere Particolarmente Aggressivi Più che altro Perché Si sentono Forti Del loro Cap Però Vedi che Hanno Qualcuno Una piccola Balestra Qualcun altro Che è Armato Con una lancia Chi è che ha Le balestre Lo dico Perché C'è un motivo Tattico Allora Quelli che hanno La balestra Sono questi due Più in piedi Tu ne vedi In realtà Uno solo Questi qui Hanno la balestra André Pardonami Se mai Metti il segnalino Sul token Così Non ne parli Neanche tu Di vista Giusto Vediamo Se ne trovo Uno decente Allora Io mi giro Velocemente Verso Gli altri E dico Io posso Occuparmi Anche di tutti Quelli che hanno Un'arma bianca Il problema È di quelli Che sono armati Con palestre O archi Di quelli Purtroppo Perisco Io direi Di combatterli Qua dentro Impilarli E trucidarli Il più possibile Sì Non conviene Andare fuori Allo scoperto In campo Parto Jack Come stai andando Dalla vecchia Tu Io sì Quando Ovviamente Vuoi prendere in mano La situazione Cominciamo Da vincere Per casa Forza Mettiamoci dentro Io sprangono La finestra Da cui sono entrato Ok Allora Intanto Entriamo In iniziativa Com'è che si apriva Qua la barra Eccola Dovreste poterlo Avere Dovreste poter Mettervi Nel turno Che vuoi No Ok Per tirare iniziativa In simbarum Cosa No Io non riesco Ok È la rapidità Comunque Quindi Se io faccio Così Che mi fa Tirare Semplicemente Il tiro In rapidità Esatto Come faccio A ficcarvi Dentro Io Cazzo Destro Sul token Add Turn Che vuoi Sì Conviene In simbarum Lasciare sempre Il player Nel turn Hold Certo E quindi Scusami Tasto destro Tasto destro Aggiungi il turno Add turn Non eliminare mai Il turn Lasciarli Sempre Noi Con l'iniziativa Segnata Eventualmente Aggiungere I nemici Quando è il momento Con la loro iniziativa O Modificare Cioè Secondo di quello C'è bisogno Certo Ora Noi scriviamo La nostra iniziativa Esatto Che è la rapidità E basta Basta cliccare Sullo zero Ok Quando due Hanno la rapidità Uguale Si guarda L'attenzione Non ho rapidità Devo solo scrivere Rapidità O devo mettere Anche Devo tirare qualcosa Ok Ho attenzione Nuove Però tu hai fatto 15 No ma non Teoricamente Non devi tirare Cioè Non tiri il dado E' proprio Il valore di base Ah il valore di base Ok Si Non c'è Non c'è Roll Sbaglio Andre No no E' proprio così Ok Hai sempre la stessa Iniziativa Insieme Io ho 10 10 Io E l'altro valore Qual è Scusatemi Attenzione Attenzione E se è pari anche quello Si tira un di 20 E attenzione Ho 10 Pure io Non ho capito niente Cos'è che devo fare Scusa Ripeti Te lo sto facendo io Devi cliccare sullo 0 nel turno di iniziativa Lì puoi scrivere il numero che è E il tuo valore di iniziativa E' sempre pari al tuo valore di rapidità Nel caso in cui sulla lista della rapidità uno abbia i valori uguali Allora si guarda il valore di attenzione Chiaro Ok Quindi Quindi Colombo è il primo E poi E gli altri invece Qua Poi ci sono io Poi Manu Jack E non so Gli NPC O cose varie Gli NPC Li teniamo anche loro così Perché anche loro hanno 10 Quindi li mettiamo per lui No Allora E Dico Uno di voi Guardo Guardo Eric O Malaga Uno di voi Tenga sott'occhio Sbarri da porta Io Penso la finestra Che ci sono entrato E vado nell'altra stanza E provo con il letto Non so vedete che dice un letto Provo a A sbarrare la finestra E Quei tizi I barbari Sono rimasti là? Giustamente Ma loro in realtà no In effetti Si spostano anche loro Ok Dietro Rimangono lì Vedete che hanno le armi in pugno Sembrano Sembrano intimoriti Ma non Non terrorizzati Quindi potete anche Interagire con loro Si Molto Vi danno idea Quindi Probabilmente si vi daranno Una mano Ecco Ok Quindi Vai Eric Io vedo Qualche mobile vicino a me A portata Che tipo di mobile Ti serve? Ma Una cassa panca Oppure Un comò Qualcosa del genere Si Diciamo di si Puoi trovare Un oggetto Allora Prendo il comò Quello più vicino E lo metto Orizzontale A terra Di fronte alla porta Come per creare un ostacolo Questa porta Se vuoi disegnare Disegnalo pure Se vuoi Un piccolo quadrato Lì così Ok E poi? Poi mi nascondo Dietro il muro Già mi nascondo Mi Ampiattisco dietro il muro E aspetto Faccio Accenno Accenno a tutti Ovviamente Di stare attenti Va bene Allora Al momento Vabbè Insomma Vediamo dopo Malogarst E Vorrei fare appello Alle Esperienze Passate In battaglia Che ho E Enunciare Ad alta Voce Tutti I punti Deboli Dei non morti Quindi Se sono In grado Di saltare Ancomo Se sono Se gli stacchi La testa Se continuano a combattere Questo tipo di informazioni qua Che io come player Non ho Ne approfitto Per richiamarle All'attenzione E farle avere agli altri Ok In linea di massima Tu sai Beh Qui te lo dico io E tu lo usi anche Per Aiutare Tutti quanti Fai che Lo puoi dire Tu Per mia voce Esatto Sì Ma guarda In linea di massima Tu sai Di per sé Che sono Come Una Normale Quindi Gli stacchi Testa O Gli uccidi Muoiono Di lungo Però Però Di sicuro Non Provano Particolare Dolore E Non Hanno Problemi Non Hanno Il Classico Problemi Che Rettiva La fame Alla sete Al freddo Al caldo Roba e così Ok Quindi tagliandogli Che ne so Una gamba E un braccio Questi rimangono in vita E continuano a combattere Oppure Esatto Però Non è come Per capirci Sine requie Ok Diciamo che Una ferita Mortale Gli finisce Ecco Gli stacchi la testa Perfetto Un Sì Ecco Così Un colpo Molto potente Li uccide Ecco Ok Allora Non possono morire Di sanguati Appiattendomi All'altra parete Dall'altra parte Di Eric Ad alta voce E Dico Solo colpi Immortali Null'altro Li fermerò Non sanguinano Non faticano Non provano dolore Finiteli Velocemente E basta Passo il turno Comunque Solo Solo lui È Palesemente Non morto Gli altri Sono Umani Normali Ah vedi Questo io Non l'avevo capito Ok Va bene Allora me la evito E voi lo sapete E basta Ok Demetros Beh io Quando vedo che loro Cominciano a fare A prendere in mano La situazione Appunto Mi sono defilato E Avanzo per la casa Abbastanza frettolosamente Guardandomi intorno Per cercare di capire Cosa succede E poi Vedo la vecchia Dimmi Cosa Cosa Io Cosa Sì Allora Tu appunto Tutti intorno Vedi I classici Quelli che Puoi presumere Essere I classici Segni Di Di una tradizione Stregonesca Ok Eretica Per te Sì Beh ovvio E E infatti E anche lei Palesemente Lo è Ce l'hai davanti Adesso lei è tutta Rannicchiata In un angolo Sembra Sembra Impaurita Mantiene Uno sguardo Abbastanza Ostile E Poi Appena Ti vedi Dice Mi avete Portati Qui C'ero Quasi C'ero Quasi Maledizione Ora Come faremo Io Quando vedo Questa Questa Creatura Meschina Tutta Barbicata Per terra Che Sputa Sentenze Così Velenose Impugno Solennemente Il portaluce Sfoglio Alcune pagine Comincio a recitare Dei passi Sarate In cui Prios Tramite I suoi raggi Apre Il male Che attanaglia Il cuore Dell'uomo E dopodiché Le dico Tu Sozza strega Che non sai altro Osi accusare noi Mentre guarda Quello che hai fatto È solamente Opera tua E dell'oscurità Di cui Ti nutri E poi Le indico Le indico Un dito accusatore E mentre Mentre faccio questo Lei vede comunque Una sagoma Di luce Che mi si manifesta Dietro C'è questa Questa sorta Di Figura Di luce Dopodiché Dopo averle Pintato il dito Mi guardo un attimo Intorno Quegli addomini Che cosa sono Mi avvicino E la prendo per un braccio E la tiro in piedi Tutto di forza No? Parla Cosa abbiamo davanti Cos'hai combinato E la guardo negli occhi Con E di che lei Dopo tutta questa Si guarda con odio Faccio anche Un tiro per Per Sottomettere la natura E il E la foresta Ma tu non sai Non hai la più pallida idea Di quello che sta lì fuori Dopodiché Da sotto l'alla Questa specie di Di straccio Che ha Sulla Addosso Attaccato a una catenella Tira fuori Una specie di mano Rinsecchita Eccola lì Esatto E qui c'è Ecco Che cosa avete portato qui Questa È la mano Di Malrogan E Se posso Ma lo dì Certo Le In quel momento Quando vedo Questo Questo feticcio Disgustoso E sacrilego Le mollo Proprio Un malrovescio In faccia Disgustato E infastidito Da quello Che ha detto E che mi ha mostrato Proprio le do Un ceffone Con il dorso Della mano E E Quando lei Cade a terra Di nuovo Con il libro Aperto Le punto Ancora il dito Ma pensavo Le tessi un altro ceffone No 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 Bravo Ti fai Rosso Come detto Comunque Bravo Bravo Io Con i più deboli Subito Bitch slap Io ho puntato La vecchia Perché secondo te E Come un vero prete Bravo Un bel largo Bambini in realtà Sì è vero Anche le suore Comunque Comunque Dicevo che appunto Dopo che le hai dato Questo ceffone Le punto ancora Il dito Addosso E le dico La luce È il sentiero Che ci porta Sopra questo territorio Corrotto Da quelli come voi Noi scacceremo L'oscurità Dalle foreste E libereremo Il mondo Dal male Che voi portate Da un'eternità Dopodiché Quello che faccio È Cercare di Strapparle di dosso Quella mano Ok Allora Fai Un tiro Va Bo Decidi tu Se vuoi fare Un tiro di vigore O O Di rapidità E hai anche Un bonus Di più due Faccio Un vigore Di forza Cioè Proprio cerco Di Non di velocità Ok Ragazzi Comunque La diretta È fighissima Ah sì 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 E come lo sai Sì Perché sto guardando Cioè Sta venendo È figa Da vedere Mega bello Ma Passami il link Del canale Eh Su Generale Non so Su Su Discord Grande Per fare Una provetta Sì 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 Domando a Ila Così vediamo Se vuole guardarselo Ci sta Allora Tu Riesci Facilmente A A Strappare Dalle mani Ciao A strappare Dalle mani Mi sono accorto E come lo prendi Ti rendi conto subito Della Della natura Corrotta Negromantica E negromantica Ok Di questo Di questo Artefatto Proprio Trasuda Corruzione Trasuda Malvagità E Lo senti Così Freddo Ma Quasi Vivo Nelle tue Mani Che ti provoca Un grave Senso Di disgusto Certo Esatto È un grande Schiena Maledica Esatto Bello Direi che Possono andare avanti Gli altri Io termino qui Con questo oggetto Che lo guardo Con il fare Su un volto Allora Prima di passare Agli Agli Avversari Vedi che Anche l'estra Si sposta Per la casa E ti segue Fino ad arrivare Fino lì Da te E dice Ah Una Una strega Del Davo Che orrore Che disgusto Poverina Chissà come si sente Lei Sempre l'insultarla Mentre gli altri due Più o meno Si mettono Pronti Ma Più o meno Lì dietro Invece Fuori Cominciate a A sentire Un certo movimento E anzi Vi rimetto La nebbia di guerra Perché Da quando avete Chiuso la porta Non potete Più vedere Bene Ditemi se Secondo voi Copro troppo Ora ci sta Ora ci sta Ok Se vai Lascia le zone Quelle davanti Alle finestre Così capisco Anche dove Ce le abbiamo Esatto Allora Qua appunto Le finestre Non sono segnate Ma realisticamente Direi che sono Lì Dove è entrato Colombo E qua dietro Ok Ok Anche qua Ok Vi torna Sì Bene Allora Sentite Delle risate Quasi Esteriche Dopodiché Fuori Dalla Porta Percepite Subito Che un paio Di loro Si sono Si sono messi Lì E cominciano A sbattere Forte Alla porta E a ridere Sguaiatamente Vi prenderemo E vi uccideremo Tutti E sbattono Forte Allora Facciamo così Voi tenete Chiusa la porta Oppure No Cioè vi affidate Solamente Al Al Mobiletto Che lo chiude Si si Mi affido Al Mobiletto Esatto Ok Allora Sentite proprio Battere Prepotentemente Alla porta E vedete Anche che La porta Che era Già Mezza Distrutta Dal tuo Primo Calcio Pian piano Comincia A cedere E ti rendi Vi rendete Conto Ti rendete Conto Subito Che Di lì A poco Verrà Distrutta Del tutto Però Per il momento Sembra Tenere Ok Mentre Colombo Da là sotto Vede Che ce ne sono Almeno due Che si avvicinano Alla finestra E sono In procinto Di entrare Io L'avevo Sbarrata Con Vedo che c'è Un letto Lì Qualcosa Beh Allora Sbarrare La finestra Con un letto È un po' Difficile Quello Quello Che ho trovato Ho cercato Non so Se c'era Un Catastatta Reba Dimmi tu Con quelle cose E quanto Ci sono Riuscito Ma Allora Ti dico Descrivimi tu Se hai qualche idea Di come fare Perché così Sui piedi Mi sembra Una cosa Complicata Perché o Hai delle assi E dei chiodi Oppure O ci metti Un armadio Davanti Oppure Non Saprei Lì Alla stanca C'è solo Il letto Basta Guarda È una Vecchissima Casa Piuttosto Malandata Non è che ci Siano Grandi Arrevi Ecco Ha capato Quando Entro Subito Prendo Se riesco Come Se Come Riesco Prendo Il letto E Prendo Quello Che Trovo Sennò Prendo Mettere La Finestra In modo Che Comunque Sia Coperta Ecco Da Freccia Esterna In modo Se Ci sia Qualcosa Do Per Scontato Che Tu L'abbia Già Fatto E Dopo Mi 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 Sennò Che Se Se Vero Appena Svoltano L'angolo Mi Trovano Lì Nascosto Nel senso De Per Prenderli Di sorpresa Diciamo Allora Considera Che Succede Più O Meno La Stessa Cosa Che Ho Descritto Prima Cioè È Un Rimedio Diciamo Poco Efficace Ti Ti Consente Di Guadagnare Un Po Di Tempo Ma Di Per Sè Ti Rendi Conto Che Entreranno A Breve Magino Di Nuovo Di Nuovo Di Nuovo Colombo Eh Di Nuovo Io Sì Non Sono Entrati Ancora Non Ancora L'inter Aspetta Aspetti Lì Ok Intanto Spodero Fado Spodero Baga Allora In questo In Symbarum Non esiste Almeno Non mi pare Di aver letto Almeno Non c'è Non Nel manuale Base Forse In quello Avanzato Non mi ricordo Preparare L'azione Però Io Lo metterei Come Come Meccanica Perché Mi sembra Anche Una cosa Intelligente È Possibile Volendo Ritardare Il Proprio Turno Però Adesso Sarebbe Da fare All'inizio Ok Per Cambiare Il Turn Order Però Poi Rimane Sì 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 Se tu mi dici Che si può Complicare L'azione Appena Vedo la prima Ombra Convolta L'angolo Coltisco Se tu mi dici Sì Sì Comunque Quello Che farò Nel Tu attacchi Il primo Che gira L'angolo Va bene Esatto Per me Ci sta La prima Ombra Che gira Vai Eric Allora La porta Quanto spessa Era Non Molto Ok Ho più o meno Idea Di dove Sono Loro Oltre la Porta Sì Sì Perché È Già Mezza Distrutta Ci si Vede Attraverso Ok Allora Sto per fare Una Tamarrata Vai Vado in Berserk Vai Vai E Provo a colpirne Uno Con Una punta Tirata Con La mia Forza Fuori di Testa E Cercando di Trapassare Anche la Porta Che è Di mezzo Ok Aspetta Che ti do Va bene Ti do Però Un malus Sì Sì Assolutamente Dimmi tu Allora Tu ci riesci Eric C'è il mio Idolo Direi che ti do Un malus Di meno Tre Ok A meno Tre E Un Di Un di Sei Colpito 12 danni Bacca 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 Allora Descrivo bene o male L'azione Prima No però Aspetta un secondo Dimmi tutto No Ho sbagliato Vediamo se lo colpisci Lo stesso Perché io ti ho dato Un meno Il malus Di meno Tre Era Senza considerare La difesa Sua Ah ok Ok Però adesso Controllo che tu L'abbia colpito Se l'hai colpito Lo stesso Oppure no Guarda Ho 4 di margine Dimmi tu Quanto lui Ha di armatura Penso che tu L'abbia preso Lo stesso Vediamo un attimo Attenzione Qualcuno si è abbonato Sono io Emi Sono io Uh Abbiamo 4 spettatori Ok L'hai colpito E tra l'altro Descrivi come lo fai fuori Allora Chiaramente Vado in berserk Quindi Mi si spalancano Gli occhi E diventano Quasi del tutto rossi Vanno fuori di testa Urlo E con la spada Infilo la punta Attraverso Magari Una parte Della Della porta Mezza di velta E cerco di colpire Alla gola Uno degli uomini Che c'è dall'altra parte Sì Te ne metto Uno lì vicino Perché se rimani lì Cioè Diciamo che Puoi solo colpirlo così E esattamente Succede così Anzi Proprio la punta Della spada Trapassa La gola E senti Un rumore Strozzato Gorgogliante Proprio la risata Che aveva Fino A un secondo prima Proprio Viene affogata Nel sangue Dopodiché Stramazza Per terra In avanti Prima Colpisce la porta E poi cade Di l'altra Ok Fai altro? No Inizio a respirare Affannosamente E Faccio un passo indietro Guardando Malagasta Ok Malagasta Io gli faccio Di sì Con la testa Come a dargli Riconoscimento Per la cosa Che ha fatto Dopodiché Faccio Un passo Verso Colombo E gli dico Vieni via Da lì Non è sicuro E poi Passo il turno Demetros Allora Ero lì Con L'artefatto Grondante Di oscurità In mano E quando Mi rendo conto Di questa Di questo Amaleo Sceno Subito Prendo La prima cosa Che trovo E se no Ci sono stracci In giro Strappo Veramente I vestiti D'orecchia Per Avvolgerlo E non Dover Metti Proprio Io non sono vecchio Stengo E non Doverlo Toccare Direttamente Ok Onesto Sì Allora Mettiamo Che puoi trovare La vecchia Tenda Va bene Ok Una tovaglia Una tenda La prima cosa Con cui Avvolgerlo Lo avvolgo E inizio a recitare Dei passi Del portaluce In modo Compulsivo Agropria E Dopodiché Mi Rivolgo Al mantello nero All'estra E le dico Indico la vecchia E le dico Dobbiamo Dobbiamo Assicurarci Che questa eretica Non combini Nulla Di Di Pericoloso Tenetela ferma Con Mia Somma Gioia Ti dice Perché vedi Proprio Nei suoi occhi Ha Una luce strana Che non avevi mai visto Sinistra La voglia Di fare del mare Esatto E Con la sua lancia Si avvicina Alla vecchia E con la lancia Gli è la punta Alla gola Dicendo Non Ti muovere Blasfema Creatura O ti taglierò La gola Gli altri Invece Rimangono Lì dove sono Anzi Dopo aver visto Eric L'azione di Eric Li vedete Anche Belli carichi Che esultano Siiii Poi Torna Di nuovo Loro Vedi il primo Qui Torna Scusami L'ultima cosa Volevo fare un movimento E portarmi Di tre caselle Qua Certo Basta Quello che era qui Dopo aver visto La morte Indiretta Del suo amico Finisce di buttare Giù la porta Bam Che quindi Si apre Si spalanca E anche il mobiletto Che era lì Cade all'indietro E proprio Lascia Lascia In vuoto Ok Quindi tolgo Questo Dopodiché Si sposta E Da dietro Li vedi Anche tu Soprattutto Li vedi Ci sono gli altri due Che Tirano Una freccia A testa Dov'è che sono Scusatemi Questi due Non ho capito Stavo per chiederlo E quindi In realtà Purtroppo Ti sei proprio Messo nel punto Sbagliato Al momento Sbagliato Perché mi sa Perché tecnicamente Non so se Eric sia Bersagliabile Forse da questo Eh mi sa di sì Allora Lui Cerca di colpire Eric E quindi Non ci sono anche I barbari Ah hai ragione Tra l'altro Sì Allora Beh Lui Io sono lì in mezzo Ci sta anche Mi colpisce No ma è che no Ma in realtà No perché Oggettivamente Questi sembrano Più pericolosi Per uno Per uno Diciamo Per un Predone Così Un po' No 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 Ma è vero Non l'avevo visto È anche più vicino Quindi Eric mi fa Un tiro Di difesa Ok Però Aspetta Perché adesso Ti dico Io ho anche Ulteriore Meno 5 Perché in questo Momento Sono Inverso Sì Devi fare Un difesa Meno Quindi Meno 5 Meno 3 Esatto Meno 3 Ce l'ho già Nel mio impedimento No 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 Meno 3 Perché c'è la precisione Di quell'altro Che c'è Ah ok Quindi meno 8 In totale Meno Nemico colpisce Però Assorbi 7 Allora Vedi Ehm Però Allora Semplicemente Non Ti arrivi Vedi che da lontano Questo Questo Quest'uomo qua Si inginocchia Ti punta la balestra Ti tira Il dardo Ti arriva Addosso Ma rimbalza Quasi completamente Sul tuo Sul tuo Spallaccio E quindi Tu non Non patisci Assolutamente Nulla Vediamo invece Cosa succede All'altro Aspetta perché Paglia Uno L'altro Invece Viene colpito Ok Viene colpito La freccia Gli arriva Su un braccio E vedete Che lui Appunto Comincia A urlare E poi Si strappa Il dardo Invece Da sotto I due Entrano Nella stanza E cominciano Ad avanzare Il primo Viene proprio Addosso A Colombo Il quale Può attaccare Allora Vedo Io Tiro Con Dotto Cioè Uso Il talento Dominico Con Per 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 Rolare La 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 Especificare Il talento Appena Vedo Che Giro L'ancolo E Incrocio Il Sguardo L L Proprio In Faccia Per Per Intimidarlo E Provo A Lo Colpisco Provo A Colpirlo Certo Fai Un tiro Con Meno Aspetta 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 Fai Un tiro Con Più Due Devo Cliccare Sulla Spadina Giusto Sì Devo Cercando Della Spadina Sulla Cosa Sì Però Beh Tu Fallo Che Poi Vediamo Cosa Ti Ha calcolato Comunque Si Devi Fare Un Più Due Comunque Della Sua Difesa Hai Già Calcolato Il Fatto Del Danno L'hai Già Messo Che È Aumentato Per Il Talento Giusto Non Credo Sì Che Che L'arco Di Sì Ma È Normale Sì André È Normale È Normale Che i Pg Facciano Danni Altissimi Che Le Armature Facciano Assolvano Che Signor Danno Comunque Lo Descrivi Come Lo Fai Fuori Niente Semplicemente Tipo Gira L'angolo Vedete Proprio Che L'urla Ma Faccia Abbastanza A un METRO Penso Perché Non è Tanto Lontano Né Possione Tratta Di L'urla In Faccia Di Pianto La Daga Tra Corsa La Corsa Ma Ragazzi Ma Solo Io L'ho Scritto Malissimo Malissimo Anch'io Quasi Quasi Non Distingo Le Prova a Togliere La Wacom Forse Hai la Linea Che è Un po Così Credo Vediamo Se ti va Un po Meglio Va Meglio Adesso Si Un po Chino Anzi In realtà Non muore Però Lo Ferisci Gravemente Perché In parte Effettivamente La Sua Seppur Leggera Armatura Assorbe Part Del Colpo Adosso Quando gira L'angolo Ripianto La spada Tra il collo E la spalla E li lascio Un bel solco Bello Profondo E dopo Faccio un passo Verso Malacca A retro Nell'altra Spagna Perché Capirci Occhio Che anche In questo Però Come in D&D Se ti togli Dall'area Di minaccia Subisci Un attacco Per lo Anche Anche Ah no Perché Non Ma Se rimane Nell'area Di minaccia Nel senso Tipo Se si mette Qua Qui No Ah ok Tu si libera È quello Di fare un passo Di non rimanere Nell'angolo In poca parole Di avere Una via Di cubo Ok Allora Beh beh Ti spostati Se vuoi Ok Allora Quello lì Comunque È gravemente Ferito E addirittura Anzi Arretra Urlando L'altro Spaventatissimo Comunque Prima lo guarda E poi Ti fissa Negli occhi E ti viene addosso E ti attacca Lui E Quindi Adesso Fai un tiro Di difesa Con Meno Tre Come Conturo con lo scudo Andrè Come C'è chi Ho anche lo scudo Tu hai lo scudo E dovrebbe Già Calcolartelo Quindi io Clicco Solo sull'armatura C'è Sullo scudo Dorato Dell'armatura Giusto Lo scudo Medio Adesso Con Con Meno Tre Dicevi Non è che Il Meno Tre P2 Si annulla Col P2 Dello Scudo Cos'è Aspetta Ah però Effettivamente Boh Tu prova A tirare Vediamo Con Un Meno Tre Tu prova A tirare Con Un Meno Tre La Difesa Vediamo Cosa Succede Che Cazzo È Sta Roba Vuol dire Che non È Riuscito A Fare La Formula Della Difesa C'è Qualcosa Che Non È Stato Scaletto Correttamente Forse Non ha Messo Il Su Che Statistica Si Tira Sì Considerando Che L'hanno Fatta Io La Scheda Allora Senti Tira Un Di 20 E Adesso E Facciamo Il Su Attributo C'è Bonus Damage Su Attributo Metti Rapidità E Riprova Comunque Tu Avresti Secondo Un attimo La sua Armatura Gli Da Meno Due No Lui Meno Tre Perché L'ingombro È Comunque Quello L'ingombro A Meno Tre Allo Scusa Che Gli Dà Il Pagore Giusto Scusa Sì Quindi Devi scrivere Nella sezione Bonus Vantaggi Defense Due Ok Impedimento Dovesti Aver Già Segnato Che È Meno Tre E Di Consequenza Quando Il Master Ti Dà Un Bonus Malus Aggiuntivo Lo Scrivi Poi Quando Devi Fare Il Tiro Quindi Adesso In Defense Dovano Tre Due Nella scheda Dell'armatura Dici Sì Prova Così Provi Così È Giusto Perché È Undici Meno Tre Dell'ingombro Meno Tre Dell'attacco Di Quell'altro Però Dovrebbe Manca Il Due Dello Scudo Più Due Sì Prova A fare Un Tiro Adesso Che Scritto Più Due Zanet Lasciando Dopo Input Value Non mettere Niente Nell'Input Valute Fai Un Tiro A caso Di Difesa Dopo Aver Scritto Due In Difesa Undici Più Meno Tre Più Due Esatto Giusto Così Adesso È Colpito Neanche Prima Quindi Eh ma Non avevo Messo Il Cosale Giusto Soprattutto Allora Di Nuovo Messo Il Mino Qua Ok Però Il Danno Assorbito È Sette Perfetto Allora Praticamente Lui Ti Viene Incontro Orlando Con La Sua Lancia Ok Te la Cala Addosso Ma Ti Rimbalza Così Sullo Scudo E Lui Viene Sbalzato All'indietro Quasi Contro Il Muro E Non Fuce Da Fuori Cominciate A sentire Un Urlo Infastidito Allora Ce la Facciamo Avanzate Metti E Di Nuovo E Di Nuovo Colombo Ho Questo Pirla Davanti Sì Tra L'altro L'altro Vedi Che Si Sta Buttando Fuori Dalla Finesta Provo Il colpo Basso Bene Provo proprio A dargli Un calcio Nello stomaco Ok Fai Visto Visto che È Contro Il muro Provo Anche A dare Un calcio Ma Con Contro Colpo Del muro Faccio Più Male Schiacciarlo Contro Il muro Vediamo Prova 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 Adesso Lì Cosa Uso Di Dovresti Avere Il dadino Comunque Vai Sul colpo Basso Tira Il dadino Vediamo Che succede Buonus Malus Qualcosa Niente Lascio Così Allora In questo Caso È Un Tiro Rapidità No No Penso Che Sia Sbrito Così Pazzo Peccato Allora Ci provi Ma Vedi Che Lui Nonostante Abbia Abbia Sia Stato Sbalzato Via Comunque Ha Mantenuto La Concentrazione E Quindi Riesce Evitare Il tuo Sgambetto E Rimani Lì A guardarti Digrignando I denti Posso Provare Un tiro Per fusione Sul tipo Visto Che Mi Sto Guardando Ma Non per colpire Vai Eric Allora Io Allora Ne approfitto Dopo Che Cioè I movimenti Posso spezzarli In due Trans Tra un'azione E l'altra Oppure Devo eseguerli Tutto In un Unico Momento Cioè Come D&D Che Posso Muover In tre Non è Specificato Poi Stence Possa Spezzarli Allora Quello che fa Eric E Fare tre Caselle In questa Direzione E Fuori Di testa Provo A ricolpire Il tipo A colpire Questo qua Sbavando Sbavando Quasi E ridendo Vai È una difesa Più due Ok Quindi Devo dare Un malus Di meno due No no Devi mettere Più due Perché Deve anche Fare l'altro Tiro Undici Undici Allora Descrivi Come lo fai Fuori Lo Decapito Faccio un Figo A un'unica Mano Dopodiché Mi giro Verso gli altri Come A indicarli Che saranno Loro I prossimi E mi nascondo Qua dietro Vedi che Ti guardano Con le loro Balestre Ma Cominciano A guardarsi Intorno Con aria Spaisata Malogast E Correggimi Se sbaglio Io dovrei Riuscire Ad arrivare Lì Se si vede No Guarda Non è così Fiscale Nel senso Che Per un quadretto In più Puoi farlo Ok Allora Mi riappoggio Al muro Prendo Una grande Un gran Respiro E Chiudo gli occhi Nella mente Tornano tutti i suoni Delle battaglie Contro i non morti E Uno dei suoni Dei miei ricordi Coincide con la testa Che viene Staccata Proprio di netto Dal corpo Dal colpo di Eric E quando Questo succede Riapro gli occhi Di colpo Come se avessi Le fiamme All'interno Giro l'angolo E mi fiondo Sul tipo Che vedo a destra Con la balestra Mullinando Due mani La spada Sopra Alta E come Che tiro Di merlo Difesa Beh l'attacco Con difesa E ti aggiungi Un più due E quindi Devo scrivere Più due Niente Allora Forse Effettivamente Mettiamo Ah Ok Non avevo visto Che ne ho fatti due Scusa No tranquilli No problem Tengo il primo Però Yes Allora Semplicemente Effettivamente Magari la distanza Da coprire Era un po' Era un po' Troppa Quando ti trovi davanti Due Che nonostante I timori Sono Ben piantati Con le loro balestre Forse hai un attimo Di esitazione Cali il colpo E alla fine Il tuo avversario Riesce a scansarsi All'ultimo Però ti guarda Con tanto d'occhi Spaventatissimo Di fronte A te Chiolo Hai altro? No no Finito Tra l'altro Ti guardi intorno E vedi che La creatura Che li seguiva Non c'è più Bene A metros Ok Porta luce alla mano Comincio ad avanzare E Ad incoraggiare Tutti gli uomini Che ci sono intorno a me E con Tonso In tono Inizio a Narrare Le gesta Della Della guerra Contro i signori oscuri E di come Gli eserciti Della luce Abbiano schiacciato L'oscurità E la regina corinthia Sia il baluardo Che ci porta Verso La Verso il futuro E la civiltà Così facendo Così facendo Io praticamente Avanzo Sempre lì al centro Dritto Proprio Con il portaluce Mentre lo leggo Di fronte a me E Domanda Tecnica Allora Se non ricordo male La regola Della corruzione Temporanea È che Si resetta Dopo una scena Giusto? Esatto Ok Io l'altra volta Avevo usato Un potere Ma non c'è Ok Ho resettato La corruzione Temporanea Passata a una scena Certo Certo Ok Perfetto E allora Quello che faccio È che Mentre cammino Attivo Laura Benedetta E quindi Diciamo che Le parole che sentite Delle gesta Di guerra Del popolo Ambriano Riecheggiano Nel vostro spirito E vedete da me Percepite In realtà da me Un calore Molto piacevole Adesso faccio il tiro Della Della corruzione Se ci sono Eventualmente Abomini O non morti Famolo sapere Che ti dico Cosa succede Ok Aspetta Allora Scusami un attimo No Prima Devo fare Tirare Per vedere Se si attiva La magia Secondo me Tu Hai un fisso Di corruzione Che è uso No Ce l'ho Da livello 2 A livello 1 Io ho teorgia Di livello 1 Mi prendo ancora Un di qua Ah Ok Da livello 2 Invece sei stabile Prendi sempre Però 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 Dov'è Dottore poteri Testa di tenacia Fallito Ok Oh Fallimento critico Addirittura Quindi Quindi Prendo Direi che Prendo Comunque La corruzione Ma Il test Non parte La magia Non parte Ma In realtà Secondo me No Perché Se non Se non va Ok No Essendo fallimento Critico Però Tramp Come Preferisci Te No No E allora Niente Non sentite Il tepore piacevole Di che Stavo descrivendo Scusate Sentite Solo la La preghiera Però Io vado avanti Raccontando No Non è proprio una preghiera Sono proprio Narrazione di canti Di gesta etiche Del popolo Ambriano Nelle vittorie Contro Di signori E non sentiamo Il tocco Del prete Del dietro Cioè I racconti Di come Sono diventato Vecchio Esatto Quindi Tu stai attento Che sono proprio Lì dietro Di te È un attimo Comunque Riecheggia Ancora La voce Gutturale Del Del Non morto Che avete capito Essere Malrogan Perché l'ha detto La strega Prima Tipo Chiamato Malrogan Dice Sciocchi I netti E questa voce Riecheggia Nella notte E Malrogan Si guarda Intorno E anche A colpa Per colpa Del fatto Che Non c'è Luce In ogni caso Non vede Appunto Più La figura Che prima Seguiva Questi Disperati Alla fine Che sembrano Essere stati Abbandonati Lì Al loro Destino Tanto che Quelli davanti A te Malrogan Quello che Ne è rimasto Ingaggiato Rimane lì A puntarti La balestra E Lo senti Che dice Aiutami Aiutami Mentre Quell'altro Vedi che Lo guarda E senza Dire una parola Mi dispiace Molla giù Sulla balestra E se la dà A gambe Proprio Parte E comincia A correre A più Non posso Nell'oscurì Mollando In merda Il suo Amico Il quale Da lì Dov'è Vedi che Con Cerca Cerca In modo Molto Impacciato Di 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 Ricaricare Velocemente La balestra E poi Di Spararti Ancora E così Fa Quindi tu fai Un test Di difesa Ma invece Di Darti Un Meno Tre Come prima Ti dai Un meno Zero Cioè Niente Fai un semplice Test di difesa Senza Senza Malus Perfetto Infatti Proprio A causa Del fatto Che lo stai Che lo stai Così Incalzando Della sua Paura E Tutta la situazione Vedi che lui Carica Malamente La balestra Spara Appena Senza Quasi neanche Mirare E infatti Il dardo Si incaglia Qui Sulla Parete Della casa Dopodiché Vedi che Butta a terra La balestra E Inizia a urlare E comincia a scappare Anche lui E tu puoi fargli Un attacco D'opportunità E In realtà Non lo faccio Appoggio Il peso Della spada Su una sola mano Inizio a ridacchiare E sputo per terra Mentre se ne va Nella sua direzione Perfetto Vedi che lui Scappa Anche lui A gambe elevate Verso la boscaglia Nella casa Invece Questo Molto ferito Stava già Allontanandosi Ricoperto di sangue Tenendosi il collo Proprio Che Che Sprizza Sangue In modo Copioso Vedi che Malamente Anche lui Si butta Nella finestra Che comincia A scappare Mentre l'altro Dice Ehi Cosa fai Mi lasci qui E riprova Un altro attacco Contro Colombo Che mi fa Un altro test Di difesa Con Meno Vai Colombo Arrivo Arrivo Ma come E praticamente Esattamente Come prima La lancia Visto che Viene fatto Un movimento Particolarmente Ampio Proprio Dato dal fatto Che non sembra Molto in grado Di usarla Rimane Prima Incagliata Sulla parete Leggermente E poi Molto Debolmente Che arriva Su Uno Spallaccio E poi Cade per terra Lui la ritira Su E rimane Lì a digrignare I denti Davanti a te Io In realtà Sta lì E io Li urlo Tutto qua Nullità Ti faccio vedere Io Come si usa Una vera arma E attacco Infatti E attacco Vai 20T1 Più 2 Comunque Perfetto L'offerisci Abbastanza bene Descrivi pure L'azione Faccio proprio Diciamo che Cos'è che mi dicevi Che lui Con la sua lama I batto Contro il muro E poi Contro lo Spallaccio Giusto Diciamo che Con lo scudo Sposto Sposto la lama O quello che è E faccio proprio Un affondo Con la spada Proprio nel suo Costato E basta E poi rimango lì E dico Dai Riprovaci E magari Sarei più fortunato Praticamente Lui comincia A rendersi conto Che è L'unico Rimasto Comunque Eric Tocca a me Vero E Allora io esco E Provo a inseguire Quello che se n'è andato Da questa parte Correndo Ok Allora In realtà Ti bastano pochi passi Per renderti conto Che Per renderti conto Che Deve essersi Proprio Infilato nel bosco E Tanti saluti Non ti sembra Proprio Di vedere Nessuno Allora mi giro Verso Malagast E Abbastanza Stizzito E Tornando normale Nella respirazione Lo guardo Le facce E lì Hai fatti lasciando Andare Via così Rido Stai migliorando Ma sei ancora Aspetta Scusa Stai migliorando Ma sei ancora Stupido Torniamo dentro Torniamo dentro Don calcio Una pietra E seguo il vecchio Perfetto Muovetevi pure insieme Che avete il turno Uno dopo l'altro E poi Passerei direttamente A Demetros A meno che Malagast Non voglia fare Qualcod'altro No Solo avvisare Che purtroppo Tra pochissimo Stacco Ok Ma è finito In realtà Manca solo Quello lì Che ha ingaggiato Colombo Io Sì sì Per quello Scusate Non mi chiamo Eric Ci impiego Un po' L'unica cosa Che faccio È andare Proprio lì Sul Sull'uscio E niente Quello che Parlo Rivolto Alla boscaglia E urlo Nella notte Oscura La luce È vita Il sole Ci protegge San Galeno È con noi E tu Oscura Creatura Se hai il coraggio Mostrati E avremo Di che Parti Vedere È il fuoco Con cui Purificarti Perfetto Mi guardo Come fare Col libro Aperto E ogni tanto Di qualcuna Pagine Svento La nuova Sua Ottimo La tua voce Riaccheggia Nella notte Non ha Però Alcuna Risposta Questo qua sotto Vedi che In realtà Quando realizza Sente le parole Di Demetros E non sente La risposta E realizza Di essere da solo Vedi che Comincia A darse La gambe Quindi Anche lui Comincia A scappare Ferito Tenendo Il costato Verso La finestra Puoi fargli Un attacco Sì Provo a Attacarlo Sempre con Meno Sempre con No Il più Due Scusi Il più due Sì Allora Proprio Descrivi Come lo fai Fuori Sono offline Io C'è 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 Un attacco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.